Musica 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 Dicevo che questo è un murales che rientra in un progetto molto interessante che abbiamo intitolato Tali e Pari e quelle che vediamo sono quattro spettacolari protagoniste della scena mondiale che hanno lottato per i diritti della donna e in generale per tutti i diritti dell'università. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.